Piccolo flashback di nemmeno 24 ore. Avanti di un set e di un break nella sua semifinale contro Carlos Alcaraz, Novak Djokovic ha dovuto affrontare un passaggio delicato, uno di quei momenti in cui Carlos Alcaraz ha acceso il suo tennis un po' di improvviso dopo l'estrema difficoltà affrontata nel primo set, è riuscito di improvviso ad esprimere un passaggio di gioco eccezionale con alcuni punti veramente interpretati alla grandissima e che sembravano poter riaprire di improvviso la partita. Ed è proprio in quel momento che Novak Djokovic ha definito, ha riaffermato il suo furore agonistico, è riuscito a contrastare immediatamente, giocando a sua volta alcuni punti fenomenali in un passaggio che ha lasciato letteralmente stare fatti per la qualità di gioco e per la forza dimostrata dal serbo, sia dal punto di vista ovviamente mentale, dell'attitudine, ma anche dal punto di vista tecnico. In quel momento la mia impressione è stata che Djokovic fosse entrato definitivamente nell'assoluta competizione del torneo. Dopo aver avuto delle difficoltà nelle partite dei gironi, tutte finite al terzo set, in quel passaggio, in quella partita così difficile, giocata in maniera formidabile già fino a quel momento, però in un passaggio che poteva riaprirla completamente, la capacità davvero eccezionale di elevare il proprio livello e di rispedire al mittente l'attacco di Carlos Salkraz. Con quei presupposti, con un Djokovic di quel tipo, visto nel momento più importante del torneo fin lì, era difficile pensare che Jannik Sinha riuscisse nuovamente a sovvertire il pronostico, anche perché Novak Djokovic ovviamente è il giocatore che più al mondo conferma appunto i pronostici. E la finale, purtroppo per Jannik Sinha, era confermato questo innalzamento di livello del gioco del serbo, che per un set e mezzo è stato assolutamente inavvicinabile per Sinha, ma lo sarebbe stato per Chiung. Una prova ai limiti della perfezione, servendo con delle percentuali eccezionali. A un certo punto nel secondo set, avanti di un 7-3-1, Djokovic aveva vinto 28 su 30 punti giocati al servizio. Mi pare appunto il 93,7% dei punti giocati al servizio, qualcosa che è più simile alle percentuali ai tiri liberi di Stefan Carri che al servizio di un tennista. Non solo questo, Djokovic ha iniziato la partita con un piano tattico molto preciso, che era stato anche quello della partita disputata durante il girone, che era stato anche quello di Daniel Medvedev nella partita di semifinale disputata da Jannik Sinner, ovvero cercare di aggredire da subito il giocatore al totesino, non fargli prendere mai in mano il pallino del gioco, spingere tantissimo col servizio appunto, ma anche col dritto, con tutti i colpi. Perché Sinner pur, essendo un giocatore che ha una grandissima capacità di ribaltare una situazione difensiva, inoffensiva, soprattutto sul lato del dritto, ha una qualità diversa quando deve offendere rispetto a quando deve difendersi. E Djokovic ha provato nuovamente a interpretare la partita in questo modo, però eseguendo tutto ancora meglio ed eseguendo decisamente con più continuità rispetto a quanto ha fatto da Medvedev. Medvedev c'è riuscito nella semifinale solamente nel secondo set, Djokovic invece è riuscito ad essere in grado di applicare quel piano tattico da subito, dall'inizio della partita e sostanzialmente quasi per l'intero incontro. Se si eccettua probabilmente solo la seconda metà del secondo set, dove Sinner è riuscito decisamente a competere di più, anche per un calo abbastanza evidente nelle percentuali del servizio di Djokovic. Sinner non ha moltissimo da recriminare, certamente quel break subito nel primo set sul 2-1 avanti 40-15, fa pensare che forse rimanendo agganciato fin dall'inizio alla partita, grazie al servizio, grazie alla gestione dei suoi turni di servizio, forse il corso della partita sarebbe stato diverso. Non è stato così, Djokovic si è impossessato molto rapidamente della partita, proprio anche dal punto di vista psicologico, ha avuto una presa fortissima sull'incontro fino al 6-3-3-1. Poi quando la partita sembrava avviata a una chiusura anche abbastanza netta, Sinner è stato bravo a provare ancora una volta a reinserirsi, a reintrodursi dalla porta di servizio, diciamo nell'incontro. Ha avuto delle occasioni sul 3-2 Djokovic, avanti di un break Djokovic, ha avuto delle occasioni Sinner, ha avuto due palle break in quel game, sul 15-40 per rientrare, per riagguantare Djokovic. Il serbo ancora una volta è stato estremamente bravo a rintuzzare quest'attacco, Sinner successivamente è rimasto ancora grappato alla partita, vincendo un game lunghissimo, estenuante al servizio, e quindi rimanendo nella scena di Djokovic sotto 4-3. C'è stata ancora qualche occasione nel turno successivo, sempre perché Djokovic ha cominciato appunto a mettere meno prime, a sbagliare qualche colpo anche all'interno dello scambio, però poi insomma non è riuscito a concretizzare Sinner questa rimonta e poi il punteggio insomma parla abbastanza chiaro, un doppio 6-3. Netto, che dice della forza di Djokovic, dice anche di una prestazione forse non di livello altissimo da parte di Sinner, un pochino come a tratti è stato anche con Medvedev, in due fondamentali invece per lui decisivi, come il servizio e soprattutto il dritto, che anche oggi è stato un po' falloso e non è riuscito a fare così la differenza, anche però ovviamente per meriti da parte del serbo e che però in generale è un risultato che non deve, secondo me, offuscare quanto di buono fatto da Sinner in questo torneo, dove è stato confermato un salto di qualità eccezionale e in tutta la fase finale della stagione semplicemente descrive ancora una volta e ancora un pochino di più della grandezza di Novak Djokovic, che 4-5 volte all'anno in occasione dei tornei più importanti della stagione, fa dire più o meno sempre le stesse cose, insomma, di un giocatore che sta continuando ad avere una presa sul circuito con un'ossessione veramente quasi ingorda verso la vittoria, verso la conquista dei trofei che sembra inattaccabile in determinate occasioni. Ovviamente nel tennis non c'è la perfezione, anche un tenista formidabile come Djokovic può perdere, però veramente in questo momento il serbo ha ridotto all'osso insomma le possibilità di essere sconfitto, insomma bisogna veramente superarsi, bisogna sperare in un suo momento di forma negativo e certamente questo non era il caso. Il Djokovic di questo finale di stagione non è il Djokovic di Bagnaluca o delle prime comparsate sulla terra dove spesso il suo livello è effettivamente più basso, no, in questo finale di stagione pur giocando molto poco il serbo insomma si è dimostrato veramente in grandissimo spolvero e capace anche di crescere ulteriormente nel finale di questa stagione. Sarà molto interessante vedere anche la Coppa Davis dove potrebbe riproporsi anche una partita contro Yannick Seed. Si conclude un torneo bellissimo a mio avviso di grande livello tecnico con delle ottime partite e dei giocatori arrivati in ottima forma a queste finals e quindi il contesto tecnico secondo me è stato di livello estremamente alto insomma sono arrivati i primi quattro giocatori del mondo ma in generale quasi tutti i giocatori sono arrivati alle finals in forma e hanno dato vita secondo me un'ottima qualità di gioco poi ovviamente le partite non sono sempre state tutte avvincenti ma il livello è stato molto alto c'è stata anche una bellissima cornice di pubblico non ci sono stati quest'anno in toppi organizzativi insomma una bella edizione delle finals atp un'ottima un'ottima